è stata appena inaugurata a torre maggiore la taberna federiciana siamo nel cuore della cittadina che ha dato praticamente ha visto la presenza dello stupor mundi e questo locale è caratterizzato anche dalla fedeltà dell'abbigliamento del personale di sala oltre che poi dopo di tutto ciò che compone il menu è anche la presentazione diciamo così del dei piatti con giuseppina sacco presidente dell'associazione borgo antico che da anni valorizza questo luogo meraviglioso di torre maggiore ascoltiamo come si è predisposta l'associazione nei confronti di questa nuova realtà di arte culinaria buonasera l'associazione borgo antico di cui io faccio parte sono la presidente si occupa della valorizzazione del centro storico di torre maggiore centro storico dove sono chiari i reperti che provengono da fiorentino ci sono se noi giriamo per il centro storico troviamo infatti dei dei muti di pietra che ci dicono effettivamente che le nostre origini provengono da fiorentino la città dove lo stupor mundi purtroppo morì siamo stati felici quando i signori della del simposio ci hanno convocato perché avevano avuto l'idea di mettere su un locale che fosse diciamo ricostruisse un po il medioevo tanto da aver acquistato dei locali proprio sulla porta degli zincari una delle quattro porte della città di torre maggiore quindi loro hanno chiesto a noi come effettivamente si dovevano comportare per l'arredo e per i costumi noi abbiamo dato la nostra consulenza soprattutto sul costume delle popolane perché le popolane erano diciamo le nuove le cameriere odierne che dovevano dovranno servire al tavolo ricostruendo il locale in pieno stile medievale e logicamente anche i personaggi quindi le cuoche e le cameriere dovevano rifarsi a quello che era lo stile di Federico II Emilio Santobuono è lo chef sia del simposio che della taberna federiciana sono i due locali che gestirei in cucina seppur con due menù diversi chef come farai a coniugare la cucina del simposio con questa della taberna federiciana? Allora la taberna federiciana io e mio cognato e mio socio Attilio Celeste abbiamo questa mission cioè di ricordare la vecchia tradizione insieme anche al borgo antico e di ritornare un po' nel passato anche perché si sa benissimo che Federico II era un amante della cucina della buona cucina infatti fece scrivere anche alcuni testi forse il primo libro della cucina quindi noi ritorniamo con la taberna al tradizionale al contrario del simposio che facciamo piatti gourmet mentre alla taberna ci saranno soprattutto e solo piatti della tradizione torremaggiorese quindi noi ritorniamo con la pizzeria